Salve, benvenuti all'agrosco di oggi. Incominciamo subito con il primo segno del giorno che avrete. Cercherete in ogni modo di ovviare ad un problema che si sta venendo a creare tra voi ed un collega, oppure tra voi e un amico. Non avete avuto ancora nessun riscontro, ma non potete più aspettare. Toro, grandi possibilità non ci sono al momento. Quindi, accontentatevi di quello che c'è. Siate gradi alla vita, specie per ciò che avete ottenuto in passato. E siate più positivi nei confronti del futuro. Gemelli, cercate di non andare troppo in giro in questa giornata, perché dovete concentrarvi di più su quello che state facendo in questo periodo e non su questioni superficiali. Non perdete l'occasione di dimostrare qualcosa. Cancro. Se volete perdere completamente controllo su alcune questioni, basterà soltanto abbandonarle. Se vi sono strette, non riuscite più a trovare un feeling. Inutile insistere, non vi appartengono già più. Leone, andate semplicemente incontro alle esigenze delle persone che vi verranno a chiedere una mano. Se invece siete voi ad avere bisogno di aiuto, chiedetelo, ve lo concederanno. Vergine, lavorate di più sul vostro autocontrollo, perché le persone che vi sono intorno potrebbero avere qualche difficoltà a mettere insieme delle idee o anche delle parole per esprimersi. Ma dovete capirle. Bilancia. Prendetevi delle responsabilità oggi, ancora una volta. Siete voi a dovervi interessare di alcune questioni, anche se non vi riguardano direttamente. In fondo, ci siete abituati e non vi costa molto. Scoppione. Vi perderete nei meandri delle vostre elucubrazioni e non riuscirete a spiegarvi come vorreste, specie con le persone che vi piacciono sul serio. Purtroppo, non c'è nulla che si possa prevedere così minuziosamente da darvi la sicurezza che state cercando. Sagittario. Potreste avere qualche rimpianto in questa giornata in questa giornata non dovete fare altro che mettere al primo posto i vostri desideri e lanciarvi in progetti che avreste sempre voluto realizzare. capricorno potreste prendere a volo qualche occasione oggi che vi metteranno di fronte a delle verità affrontatele con misura e onestà in modo da non sentirvi persi e sapere sempre che direzione prendere. Acquario potete benissimo prendere delle decisioni che esulino delle vostre competenze ma finireste per immischiarvi in situazioni poco ortodosse oppure sconvenevoli se penserete solo al vostro otticello invece potreste essere tacciati di egoismo pesci ci sono momenti che potrebbero contare molto in questa giornata mentre altri da dimenticare ci sarà dunque un buon equilibrio ma aspetterà a voi vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno ragazzi e anche per oggi l'oroscopo finisce qui io vi ricordo di seguirmi sui miei social iniziando da facebook che pepe channel personaggio pubblico poi su twitch come pepe channel a trattino sotto real invece su tik tok su due profili il primo pepe channel a trattino sotto real e il secondo pepe channel sotto gold ok un bacio ciao ciao alla prossima